per me italianità senso di appartenenza all'italia in generale e io che sono il commissario tecnico della nazionale dell'italia per me questo è un valore è un valore primario è quello che cercherò di far capire ai miei ragazzi il senso di appartenenza a questa maglia che è una maglia importante la maglia azzurra corriamo per una nazione importante come l'italia che è una grandissima tradizione per il ciclismo quindi per me proprio italianità significa questo e cercherò di trasmetterlo a tutti i miei ragazzi